A me questa sera conosceremo quella che la Bibbia ci mostra come una delle armi più straordinarie, più potenti. E sai, è molto meglio avere rivelazione su qualcosa che ci appartiene che avere un tocco da parte di Dio attraverso qualcuno che prega per noi. Perché per quanto sarà straordinario, sarà per oggi. Ma quando tu hai le chiavi del Regno di Dio, tu puoi vivere oltre la porta in cui sono incastrati molti credenti. Ascolta questo, molti, noi abbiamo predicato, anche io l'ho fatto, un Vangelo di salvezza. E questo è importante, amèn? La salvezza è un pacchetto dentro cui c'è un'infinità di tesori, amèn? Quanti credono che Gesù è la porta per la salvezza? Lui, crede in Lui, non perisce mai, vita eterna. Ma molti credenti si fermano alla salvezza. E in poche parole, è come se tu entrassi in un edificio e rimanessi incastrato nella porta. Ma oltre quella porta c'è un mondo, c'è un Regno. Noi non siamo chiamati solo a entrare, ma siamo chiamati a regnare. Gesù ha predicato un Regno, Lui ha detto io sono la porta per questo Regno, amèn? Se uno entra, entrerà, uscirà e troverà, amèn? C'è un pascolo oltre quella porta che non è calleggiare nella vita, ma è regnare nella vita. E l'ho condiviso in diverse parti d'Italia. Un giorno, mentre stavo guidando e andavo a predicare in Romagna, il Signore mi disse Walter, voglio dirti che cosa è regnare nella vita. Wow, io avevo sempre chiamato che regnare nella vita era a vedere miracoli. Demoni che si sottomettono e fungono malattie. E gloria a Dio, e questo è straordinario, amèn? E lui mi ha detto, è qualcosa di più regnare nella vita. Quando tu regni nella vita, non sei più tu che segui e servi le circostanze, ma sono le circostanze che servono a te. Amèn? La Biblia dice, tutto coopera per il bene. Oh, questa è una notizia straordinaria. Tutto coopera per il bene. Amèn? Coloro che amano Dio. Amèn? E quando entri nel riposo di Cristo e inizi a riposare, le cose cominciano a collaborare per te. E Dio crea un'influenza e inizia a muovere le cose a distanza spesso di centinaia di chilometri per te. Pensate questo. La Bibbia rivela, nel Vangelo di Luca, che per spostare due persone e tre, una era il Vangelo. Da Nazareth a Betalemme, Dio ha mosso il cuore dell'imperatore romano a organizzare un censimento in tutto il mondo allora conosciuto. Per spostare una coppia di alcuni chilometri, perché il Messia doveva nascere a Betalemme. Amèn? Grazie a questo. Per la provincia sconosciuta della Giudea, Dio ha mosso il cuore dell'imperatore a Roma a organizzare un censimento di tutto l'impero romano per spostare due persone. Quanto può fare oggi per te? È solo la nostra mente che può limitarlo. Ecco perché Paolo dice che lui può fare molto di più di quanto noi possiamo domandare o pensare. Perché noi domandiamo come pensiamo. Quando tu domandi, dici, io chiedo solo un po' di pace perché stai limitando alla grande Dio nella tua vita. Perché lui non è morto tra la croce e i dolori sulla croce per darti un po' di pace. Lui ha dato la sua vita per farti regnare in questa vita. Non per aspettare di andare con lui quando tutto sarà rosa. Ma per regnare in questa vita e per smettere di vivere una vita a servizio delle cose e cominciare a farla diventare a servizio delle persone. Noi invece abbiamo servito le cose. Noi non siamo chiamati a servire cose. Le cose sono chiamate a servire cose. Le cose hanno servito Gesù. Gli asini hanno servito Gesù. I pesci hanno servito Gesù. Dio è Dio per questo. I panni hanno servito Gesù. Le tempeste e le acque hanno servito Gesù. Loro ha servito Gesù. Ma Gesù ha servito le persone. Amen. Sperti di servire le cose e cominci a servire le persone. Quando inizi a servire le persone, le cose cominciano a servire te. Finita la predica, vado a casa. No. Dio alla persona che è accanto, smetti di servire le cose. Sperti di non dormire la notte per pensare alle cose. Si può dormire la notte per pensare alle cose. Ok? Non per pensare alle cose. Per questo Gesù ha detto, chi di voi con tutta la vostra ansia può aggiungere un cubito alla propria statura o aggiungere un giorno alla propria vita. Amen. Cominciamo a servire le regole di Dio. Amen. Ripetilo come? E tutte le altre cose ci saranno. Amen. Amen. Questa sera faremo un'esperienza sulla parola di Dio straordinaria. Un passo che amo così tanto che sono 15 anni che non ci predico. Wow. 14, 15 anni. Non passo che amo tanto. Amen. Amen. Grazie per l'entusiasmo. Ok? È un episodio che si trova nel secondo libro delle cronache, capitolo 20. È un episodio che accade nella vita di un re, ma che potrebbe essere ciascuno di noi. Questo re si chiama Giosafa. E è uno dei re che io preferisco. È un re con una dimensione molto umana. Ok? E è scritto che dopo questi fatti i figli di Moab, i figli di Amon e con loro dei Maoniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Non uno, ma tre. Perché le rogne non vengono mai da sole in Toscana. In Piemonte non lo so. Che è mai capitato in Pigeo? Ma mi capitano tutte insieme. Ci sono, rari, periodi in cui c'è pace. Develo o no? Poi iniziano le rogne e te le trovi 5 o 6 che non so da che parte voltare. Ora, se ti sei trovato, o ti trovi in questa situazione, questa predica per te. Se non ti sei trovato, o non ti trovi in questa situazione, salve che tu ci troverai. Quindi questa predica per te lo stesso. Ti unamento e... Se continuo così, dopo fai liberazione. Tendono dei messaggeri a informare ciò che ha fatto dicendo... C'è sempre l'uccello del malaugurio, no? Il progetto è quello che ti telefona e che quando ti telefona sai che è una roba. E comincia a pregare in lingua e giacca dove di nuovo. C'è la vede, perché ti telefona e dice... Oddio. Soprattutto se sei responsabile di una chiesa. Ti telefona alle 11 e 30 di sera e è difficile che ti chiamino per dire che qualcuno è risuscitato dai miei. Normalmente qualcuno ha fatto un numero. Tendono dei messaggeri a informare Giosafat e dicendo... Non una moltitudine, ma una grande moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta da Asa Son Tamar, cioè Enghedi. Giosafat ebbe paura. Che avere paura è naturale, restare nella paura no. Wow, sì! Non è? Quindi se vivi la paura non stai vivendo qualcosa di strano, ma accettala come momento transitorio, ma non accettare di rimanere nella paura. C'è un grande insegnamento in questo re perché quanta cosa fece? Giosafat ebbe paura e telefonò al suo pastore. Andò un messaggio al suo pastore, un whatsapp al suo pastore, un cocale al suo pastore, ti prego, prega per me. No, cosa fece? Si rispose a cercare il Signore. A volte le risposte più banali che noi scartiamo subito sono le risposte di Dio. Ascolta, niente potrà mai sostituire il tuo cercare personalmente il Signore. In una spesso. Soprattutto se sei nella paura. Perché lui è l'amore perfetto e Giovanni dice che l'amore perfetto caccia la paura. La paura. È buono che i fratelli preghino per noi? Certamente sì. È buono ascoltare i consigli della nostra autorità? Assolutamente sì. Ma solo se lo riesci con il tuo cercare il Signore. Non delegare mai ad altri. Non c'è nessuna preghiera che qualcuno può fare per te che varrà quanto la tua. Mai. Mai. Ed ecco perché il nemico è la prima cosa che ti sussurra e fai pregare qualcun altro. Sai perché? Perché la tua preghiera è conosciuta nel Cielo. Amén. 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 Nessuna chiave può aprire quello che le tue chiavi possono aprire. Gesù ha detto a Pietro io a te do le chiavi. Amén. Ma qualcun altro per te. E è tempo di cominciare ad usare alcune chiavi. Amén. Stasera riconosceremo una straordinaria. Si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Sai come si chiama questa influenza? Quando tu fai un'azione in Cristo, altri seguiranno il tuo esempio. Non dissi al popolo, pregate, non dissi al popolo, cercate il Signore. Lui iniziò a cercare il Signore. Sono gli esempi quelli che trascinano, non le parole. Amén. Una volta era un periodo in cui trovavo spesso persone che mi dicevano se io fossi in te farei questo, se io fossi in te farei questo, se io fossi in te... E una volta un uomo, Dio, venne a Roma, ero di notte, parlavo con lui per strada, mi disse, sai cosa devi fare? La prossima volta che vengono a dirti se io fossi in te farei, rispondi comincia a farlo te per tre mesi. Quando vedo che funziona lo farò anche. No, lui si dispose a cercare il Signore e tutto Giuda seguì il suo esempio. Amén. Verso successivo, Giuseppe, stando in piedi in mezzo all'assemblea. Quanto è importante non lasciare mai la comunione con i fratelli. In mezzo all'assemblea, di Giuda e Gerusalemme nella casa del Signore davanti al cortile nuovo, disse, Signore Dio dei nostri padri, non sei tu, Dio dei cieli, non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni, non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza, in modo che nessuno può resistere contro i te. Voglio farvi notare una cosa, che l'attenzione e la preghiera di Giuseppe non era né su se stesso, né sul popolo, ma su Dio. Amén. Molte nostre preghiere sono sempre incentrate su di noi, su quello che noi abbiamo, su quello che noi sappiamo, su quello che noi possiamo o non possiamo fare. Giuseppe fondò la sua preghiera, Tio e Padre, sulla potenza di Dio. E poi è scritto, non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele, a darlo per sempre alla discendenza di Abramo, tuo amico. E quelli lo hanno abitato e gli hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo, quando ci cadrà addosso qualche calamità, sfada, giudizio, peste o calistia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, perché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella nostra tribolazione, tu ci udrai e ci salverai. Wow! Che preghiera di fede, senza sé e senza notte. Verso successivo, ora ecco che i figli di Ammo, di Moab e quelli del monte Seir, tre popoli, nelle cui terre non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, perciò si tendero lontano da loro e non li distrusse, eccoli che ora ci ricompensano. Nel libro del Dutronome è scritto che quando Israele, dopo 40 anni, marciava in quelle zone, il Signore non fece loro conquistare questi territori, perché due di questi erano stati promessi a Esau, e uno di questi, il monte Seir, era stato promesso all'otto. Ecco perché Israele non li aveva conquistati. Dio nostro non vorrai giudicarli perché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che avanza contro di noi. Attenti a questa frase. Noi non sappiamo che fare. Che apparentemente sembra una risposta di sgomento, ma normalmente in un momento di difficoltà la prima cosa che ci chiediamo è che cosa devo fare. È vero o no? Questa è una rivelazione potente, perché Joseph ha capito che la chiave non era nel fare. Spesso quello che noi dobbiamo fare è non fare qualcosa. Noi non sappiamo come fare, ma gli occhi nostri sono su di noi. La soluzione in un momento di difficoltà non è fare qualcosa, ma è vedere qualcosa. Non è tanto ciò che fai, ma è ciò che vedi. Amen? Noi invece mettiamo l'attenzione spesso su ciò che facciamo. E invece Joseph ha fatto questa grande rivelazione che la chiave non era fare qualcosa, ma era vedere qualcosa. Terzo successivo. Tutto Giulia, perfino i loro bambini, le loro mogli e i loro figli stavano in pieno davanti al Signore. Allora lo spirito del Signore investì dove? È sempre in mezzo alla comunione dei fratelli. E lo Spirito Santo si muove in un modo particolare. Ecco perché già da Genese è scritto, non è bene che l'uomo sia solo. Se non hai una comunità, cerca comunque dei fratelli conquistare. Non rimanere mai solo. Amen? Iaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Yeiel, figlio di Mattania e Levita, tra i figli di Asaf. Iaziel, che vuol dire questo nome? Contemplatore di Dio. Cioè qualcuno che vede, non che fa. Amen? La risposta viene sempre da qualcuno che cerca Dio, a cui Dio fa vedere qualcosa. Ricorda che prima che il Signore faccia qualcosa, ti fa vedere qualcosa. Amen? Disse, porgete orecchio, voi tutti di Giude e voi abitanti di Gerusalemme, tu o reggiosafat. Così dice il Signore. Non tenete, non vi scomentate a causa di questa grande moltitudine. Perché questa battaglia non è vostra, ma di Dio. Amen? Togliere dalle nostre mani spesso ciò che non ci appartiene e fissare gli occhi su Cristo è la chiave. È la soluzione. Verso 16. Domani scendete contro di loro. Eccoli che vengono su per la sanità di Sissi e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Yeruel. Yeruel vuol dire insegnato da Dio. Ci sono dei deserti nella nostra vita che Dio permette per insegnarci qualcosa. Amen. Il deserto non è mai un'esperienza fine a se stessa. Nel libro di Osea ha scritto, io l'attirerò del deserto e parlerò al suo cuore. Quando Dio permette un deserto è perché tu tolga gli occhi dalle circostanze e tu li fissi su di Lui. Ciò che il diavolo vuole è che tu tieni gli occhi sulle circostanze. Più tu tieni gli occhi sulle circostanze, più le circostanze avranno l'influenza per abbassarti. Più tu metti gli occhi su Dio, più Dio avrà la possibilità di alzare. Amen? Verso 17. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. La prima cosa davanti a un problema è che cosa devo fare. Vero no? Io ogni giorno, e anch'io li mandavo, e a volte anch'io li mando, arrivano messaggi su un messenger o sulla pagina pubblica con scritto Mi trovo in questa situazione. Che cosa devo fare? E se tu ti azzardi a rispondere, cerca il Signore e la risposta è scusa se ti ho distrutto. Ma credimi, la risposta più banale spesso è la soluzione migliore. Prenditi del tempo. Quando ci sono situazioni che opprimono la tua vita, prenditi dello spazio, Prenditi del tempo, vatti a fare una passeggiata da solo e mettiti a pregare nello spirito. Mettiti a fissare gli occhi su di lui e lascia la situazione. Vi ricordate quando Gesù chiede ai discepoli di mettersi sulla barca e precederlo? E lui se ne va a pregare sul mondo. Ora, lui sapeva benissimo che c'era una tempesta che stava per venire sulla barca e lui sceglie di andare a cercare il padre. Amen? Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi. Tenetevi fermi e vedrete la liberazione. Che peccato. Delle traduzioni molto sommarie che abbiamo in italiano. Sapete qual è la parola che viene tradotta con liberazione? Viene invece tradotta giustamente nella King James Version Salvation. La parola è Yeshua. Tenetevi fermi e vedrete Yeshua. Tenetevi fermi e vedrete Gesù. Guarda, ascolta. Joseph aveva pregato così. I nostri occhi sono su di te. La risposta di Dio è E io ti farò vedere mio figlio. Amen! Alleluia! La soluzione ha sempre un nome. E questo nome è Amen! Tutto quello che Dio vorrà farti vedere è la rivelazione di Gesù. In quel momento tu hai bisogno di una fresca rivelazione di Gesù. Non hai bisogno, ascolta, di sapere cosa devi fare perché tu non sei chiamato facente. Tu sei chiamato credente. La risposta non è che cosa devo fare la risposta è che cosa devo credere. Amen! E guarda che bellezza tenetevi fermi. Isaia dice a chi affermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace. La pace perché il te confida. Amen! Amen! Quando tu ti fermi nei tuoi sentimenti e fissi gli occhi in lui tu puoi vedere la salvezza che ha un nome Gesù. Amen! Che il Signore vi darà o Giuda o Gerusalemme non temete non vi sgomentate domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi e Paolo vi chiara e se Lui è con noi fai un applauso di qua. E' grazie di sotto. Guarda, la preghiera è noi non sappiamo che fare ma gli occhi nostri sono su di te. La risposta di Dio è voi vedrete Gesù. Amen! Grazie di sotto. Venti, la mattina seguente si alzarono presto si misero in marcia verso il deserto di Tecoa e mentre si mettevano in cammino Giosafat stando in piedi disse ascoltatemi o Giuda. Ok, questo è l'uomo che fino a qualche giorno prima aveva paura ma quando tu vedi Gesù il suo amore perfetto caccia la paura. Quando vedi Gesù attraverso una predicazione la predicazione del Vangelo ha il fine di farti vedere Gesù di farti vedere una rivelazione di Gesù non solo di Dio. Oggi la Chiesa parla molto di Dio ma predica poco Gesù. Amen! E questo stesso uomo che pochi giorni prima aveva paura e non sapeva che fare dopo aver visto Gesù ha una rivelazione e lui stesso dice credete nel Signore. Vedi che la chiave non era il fare la chiave era il? Credo! E sapete questo verbo credere nell'ebraico com'è? E' il verbo aman da cui viene la parola Amen! La cosa migliore che puoi fare in ogni situazione della tua vita è dire un Amen di cuore a qualcuno che ti sta predicando Cristo. Amen! E invece cerchiamo la soluzione. E' vero o no? Mentre invece ciò che Dio vuole è che cerchiamo il figlio non la soluzione. Perché la soluzione viene come conseguenza di una fresca rivelazione di Gesù nella tua vita. Amen! In ogni situazione cioè di cui io ho bisogno è di quella rivelazione di Gesù che mi manca. Il motivo per cui mi trovo in questa situazione è perché mi manca una rivelazione e in quel momento lo Spirito Santo vuole darti la rivelazione che ti manca. Credete nel Signore vostro Dio e starete al sicuro. Credete ai Suoi? Cioè credi alla parola che ti viene predicata. Posso dirvi qualcosa? Per credere alla parola che ti viene predicata devi onorare chi te la predica. Amen! Il lavoro del diavolo è screditare il profeta. Per questo Gesù ha detto chiunque accoglie un profeta come profeta avrà la ricompensa. Amen! Perché Francesco Basile ha scritto un libro straordinario ce l'abbiamo qua da qualche parte che si chiama Onore così faccio un po' di pubblicità Basile fatto lo scritto io un libro meraviglioso che in Italia mancava sull'onore l'onore lui dice è la chiave per attivare l'unzione dello Spirito Santo cioè l'onore è quel canale che fa sì che la provvigione che Dio vuole mandare sulla tua vita attraverso qualcuno che ti sta predicando tu la possa ricevere. A Nazareth lo stesso uomo che compì miracoli in tutta la terra di Israele è scritto non poter fare prodigi solo qualche guarigione perché lo disprezzavano. Amen! Se tu accogli un profeta come un profeta avrai la ricompensa del profeta. Onorarci gli uni gli altri permette al messaggio che Dio manda su di te di arrivare con efficacia non arriverà con efficacia se il diavolo riesce a convincere il tuo cuore di screditare quella persona perché? Perché è il figlio del familiare. Amen! Quando invece tu onori le persone permetti a Dio di dare attraverso quel profeta la soluzione che lui sta mandando nella tua vita. La cosa che migliore che puoi fare stasera è prendere per te con un forte amene con tutto il cuore la parola che Dio sta mandando sulla tua vita perché credere a questo è la soluzione non fare. Ricorda la soluzione non è mai il fare il fare è una conseguenza di qualcosa a cui credi ma prima del fare viene il credere e prima del credere viene il vedere Gesù. Amen! Credete ai suoi profeti e trionferete la parola di Salah vuol dire prospererete quando tu credi a coloro che Dio ti manda quella la chiave perché tu possa prosperare ecco perché Paolo insegna in maniera così importante sulla collaborazione delle parti del corpo Amen! Onorare far sì che le membra del corpo siano onorate far sì che il messaggio che Dio sta mandando sulla tua vita e anche se non sembra la risposta a ciò di cui tu hai bisogno in quel momento arrivi e porti frutto e faccia prosperare la tua vita Amen! E dopo aver tenuto consiglio con il popolo e qui c'è qualcosa di incredibile perché normalmente guarda questo se un esercito viene contro di te armato meglio tre eserciti tendono contro di te armati la cosa più logica da fare o meglio la cosa più razionale umanamente razionale da fare è mettere le armi davanti ora se lui non avesse cercato il signore e Dio non gli avesse fatto vedere Yeshua probabilmente lui avrebbe fatto quello che tutti i re avevano fatto prima di lui e quello che tutti i re assennati farebbero che mettere i soldati davanti guarda invece chi mise davanti con il popolo stabilì dei cantori ora vorrei che tu non c'erassi la scena questi tre popoli arrivano armati fino ai dentro davanti a un popolo che si era fatto la fama di essere il terrore di Dio ogni volta che Israele vinceva è scritto il terrore di Dio si impadronì addirittura nel libro dei giudici durante il tempo di Gedeone è scritto che i nemici dicevano questo popolo feroce dovunque va porta il terrore di Dio nessuno può resistere è uscito dall'Egitto passando il mare Dio è con lui e dovunque vanno si impadroniscono di tutto questi tre popoli vanno verso questo popolo e vedono i tamburelli e i gemmari e le armi eppure spesso le cose deboli di Dio sono più potenti delle cose forti delle cose a volte crediamo che Dio ci dia almi potenti e invece Paolo dice che la sua tremenda potenza si rivela perfetta nella debolezza sai queste cose le puoi avere solo per rivelazione non ci puoi arrivare se non fissi gli occhi sui piedi amén amén è e dopo erano veramente come si rivelazione con un po' stabilite i cantori che vestiti dei paramenti sacri cantassero le lodi non al signore ma del signore cioè non è qualcosa che loro cantarono a lui ma è qualcosa che lui nell'ebraico è bellissimo che lodassero la bellezza della santità straordinaria in poche parole è questo fissate gli occhi su di me e lodate me lasciate stare in nemici fissa gli occhi su di me è scritto fissando gli occhi su di lui colui che crea la fede e la rende perfetta la chiave che Dio mise profeticamente nelle mani di Giosafa fu una parola molto semplice che si chiama lode e camminassero alla testa dell'esercito cioè le armi dietro e la lode davanti spesso in situazioni in cui niente riesce a portare salvezza la lode è la risposta che lo so voglio farvi vedere qualcosa il canto che cantavano era questo celebrate il Signore perché la sua bontà ma la parola nell'ebraico è che vuol dire grazia loda la sua grazia dura in eterno e guarda nel libro vai avanti nel libro degli giudici al capitolo 20 verso 18 in un tempo in cui Israele doveva combattere contro la tribù di Beniamino i figli di Israele chiesero a Dio chi di noi salirà per primo a combattere contro i figli di Beniamino il Signore rispose Giuda salirà per primo il nome Giuda Yehuda in ebraico vuol dire lode la lode è la prima che fa in battaglia è la prima che rivolta in battaglia amén amén l'odare non è spettato fare un canto l'odare spesso è fissare i nostri occhi su Lui e iniziare a l'odare la bellezza della sua santità perché la sua grazia dura per sempre Signore in questa situazione io scelgo di cominciare a dodarti perché la tua grazia dura per sempre io voglio prendermi cura della bellezza della tua santità perché Gesù un giorno ha detto a una donna samaritana il Padre non cerca operai amén amén il Padre è cercato la tua vita amén e lo adorino in spirito e in verità Giuda sale sempre per primo la salvezza del mondo Gesù è venuto dalla tribù di Giuda lui è chiamato il leone della tribù di Giuda lui è il figlio della tribù della lode lui è la lode e quando inizi a lodare Dio stai facendo l'esperienza della tribù di Cristo amén vai avanti il Salmo 147 è un Salmo che io amo è un Salmo di liberazione potentissimo dice così esultino i fedeli nella gloria non è questo l'esultare esultare letteralmente vuol dire saltare per aria amén cioè in una situazione in cui sei sotto pressione comincia a saltare a lodare la grazia di Dio inizia a cantare Signore io ti lodo perché la tua grazia dura per sempre voglio lodare il tuo nome benedire il tuo nome cantino di gioia sui loro letti abbiano in bocca non le lodi a Dio ma le lodi di Dio e quando hai in bocca le lodi di Dio quando è lo Spirito Santo che le crea inizia a lodare Dio nello Spirito ad esempio iniziare a lodare Dio in lingue quando inizia a lodare Dio in lingue lo Spirito Santo inizia a creare delle lodi nel tuo cuore a metterle sulla tua bocca Paolo dice in prima Corinzi 14 pregherò con lo Spirito e pregherò con c'è la lettera che ho iniziato la vita pregherò con lo Spirito ma pregherò con intelligenza salmeggerò con lo Spirito e salmeggerò con intelligenza ora la domanda è che cosa vuol dire con intelligenza non vuol dire pregherò in lingue e poi pregherò in italiano altrimenti vorrei dire pregherò con lo Spirito e pregherò in ebraico lui parlava ebraico o greco canterò con lo Spirito ma canterò anche in ebraico o greco no no intelligenza vuol dire un'altra cosa vuol dire con ridelazione e con ispirazione prima preghi nello Spirito e poi Dio dopo un tempo che stai pregando in lingue inizia profeticamente a darti direzione di lode e di preghiera ti trovi spesso dopo mezz'ora che preghi nello Spirito a pregare a rilasciare preghiere e lode che non sai nemmeno tu da dove stanno venendo beh stanno venendo direttamente dal trono della grazia e spesso quel rema che lui mette dentro la tua bocca è qualcosa che nel mondo spirituale va a colpire i principati e le potestà che stanno dietro quello che tu stai vivendo nel mondo fisico ecco perché Paolo dice la nostra battaglia non è contro carne e sangue ma contro i principati le potenze che stanno dietro questo mondo di temere ci sono non potrai mai vincere una battaglia che nasce nello spirituale nel naturale e spesso situazioni in cui non riesci a uscire per un lungo tempo si risolvono quando lo spirito santo mette un rema nella tua bocca e semplicemente lo rilasci nel mondo spirituale così importante imparare questo quando tu preghi con lo spirito quando preghi in lingue dopo un tempo che stai pregando in lingue sei abbastanza sensibile allo spirito santo perché lui possa farti pregare con intelligenza cioè con rivelazione altrimenti dice Paolo ti troverai a battere l'aria colpirai tutti i demoni che tu conosci a casaccio ma una parola che ti omette nella tua bocca avrai il potere di distruggere la racconto spesso questo perché l'ho raccontata all'ultima conferenza che abbiamo fatto in Calabria ma voglio raccontarla qui se qualcuno non l'ha mai sentita tanti tanti anni fa uno dei pastori della mia comunità aveva già avuto un figlio e la moglie era incinta al nono mese della seconda vita e questa bambina quando arrivò al nono mese entrò insieme alla mamma in gestosi le donne sanno cosa è la gestosi la gestosi è il rischio di morte per la mamma e per la bambina e quella sera era ormai scaduto il tempo in cui questa bambina doveva nascere la mamma fu ricoverata all'ospedale di Grosseto che è distante circa 80 km e quella sera arrivò una telefonata verso le 11 di questo padre e la moglie era stata portata in terapia intensiva fecero nascere la bambina e poi chiesero alla mamma di uscire perché la mamma non la vede se morire questa era la situazione e in quei momenti non basta ad andare a qualcuno e dire prega perché sei tu la risposta in situazioni drammatiche e quella sera noi non sapevamo come pregare non avevamo nessuna direzione e quello che puoi fare è signore salva la sala e invece io disse a quest'uomo quello che dobbiamo fare adesso è mettere in pratica ciò che la Bibbia insegna iniziamo a pregare nello spirito e iniziamo a pregare in lingua nel salotto di casa sua a 80 km di distanza e mentre pregavamo in lingua io sentì dal profondo del mio spirito un versetto della scrittura che non ricordavo dove era perché era tanto che non l'avevo letto che diceva così negli anni a venire dice il signore non accadrà più che un bambino nasca per pochi giorni e un vecchio che non giunga il colpimento dei suoi anni amici amici sai cos'è questa è la spada dello spirito poi che sono andata a cercarla il giorno dopo si trova in Isaia 65-66 wow io ho preso questa spada che non è la Bibbia è ciò che lo spirito mette nel tuo cuore sulla tua bocca in un momento preciso quella spada ha il potere di colpire le potenze che stanno operando per la tua io guardai quest'uomo e mi disse il signore dà a te che sei il padre non a me non prendere sempre il posto degli altri credendo di fare del bene a volte il signore ti dà una parola da mettere in mano alla persona che Dio sta chiamando a pregare e Dio sta chiamando lui perché lui era il padre e lui era l'autorità gli sti tu devi prendere questo versetto e proclamarlo sulla vita e io mi ricordo che lui aprì la porta finestra della sala e so le mani e disse io dichiaro sulla vita di mia moglie e di miei figli che il signore dice che in futuro cioè oggi in Cristo non sarebbe accaduto che un bambino sarebbe nato per pochi mesi e su questa parola io revoco la vita di mia figlia la reclamo dalle mani del diavolo e dichiaro lunga vita cinque minuti dopo la moglie telefonava dicendo che la situazione della bambina era completamente cambiata e oggi questa bambina studia nella scuola dove io ho inizio non pasturare le cose su cui la Bibbia insegna in maniera importante non sto dicendo chi è più importante di ma Paolo ha insegnato più sul pregare nello spirito che sulla cena del Signore e poche persone oggi prendono sul set il pregamento ma la Bibbia dice che quando tu preghi in lingua e benedici Dio ce lo stai odando che cosa mise e Giosafo davanti non la lode a Dio ma le lodi di quando preghi nello spirito lo spirito santo crea la sua lode sulla tua bocca quanti vogliono vedere qual è l'effetto io ti prego non dire solo amen a questa predicazione mettila in pratica nella bovina e vedrai i miracoli straordinari guarda cosa dice questo salmo abbiano in bocca le lodi di Dio iniziare a dire signora adesso inizio a dodarti in lingue cori a varasce che me ne sai figlio fisso i miei occhi su di te come Giosafo voglio vedere Gesù e inizio a pregare nello spirito perché Paolo dice noi non sappiamo come pregare bene ma lo spirito stesso viene in nostro aiuto amen oggi non è un profeta che ti viene in aiuto è lo spirito di Dio stesso che viene in tuo aiuto perché non sappiamo come pregare oh se lo diceva Paolo quanto più noi se Paolo l'uomo che ha avuto una rivelazione di tre quarti del nuovo testamento diceva noi non sappiamo come pregare ma lo spirito stesso viene in nostro aiuto con sospiri ineffabili pregare nello spirito wow amen e guarda una spada a due tagli in mano sai perché? perché quando preghi nello spirito lo spirito mette la spada a due tagli un rema da rilasciare nel mondo spirito quella sera pregare in lingua è permiso allo spirito santo pensa di far uscire dal profondo del mio cuore un versetto che io non avrei mai ricordato nella Bibbia perché non è che Isaia 66 l'ho raggiunto l'avevo letto molto tempo fa ma sai quando leggi la Bibbia non è tanto quanto ti ricordi è quanto lo spirito può darti in mano in un momento di bisogno sai perché non tenersi nella parola di Dio perché verrà il giorno che lo spirito santo prenderà un versetto specifico e te lo darà in un momento in cui non hai altre soluzioni prendi molto sul serio questa predica amen e una spada a due tagli in mano per punire le nazioni infliggere i castigli ai popoli qui lo sta parlando di popoli umani noi non siamo chiamati a castigare le persone siamo chiamate ad amarle qui sta parlando del mondo spirituale delle potenze demoniiche per legare i loro re con catene quando inizi a pregare nello spirito e a rilasciare parole profetiche c'è un mondo di tenebra che tu stai legando in catene per i legali i loro nobili con ceppi di ferro e eseguire su di loro il giudizio già scritto quale giudizio il giudizio che Gesù Cristo ha scritto con il suo sangue al calvario e gli ha spogliato le potenze ha legato i loro nobili ha tolto via il documento che ci condannava inchiodandolo alla croce facendoci trionfare su di loro per mezzo della croce appena cominciarono ripetetelo come non a lanciare giovellotti non a colpire con spade non a fare strategie appena cominciarono i canti di gioia c'è solo un modo per avere gioia in mezzo alla tribolazione che tu permetta allo spirito santo di far scaturire dal tuo cuore quei fiumi d'acqua viva quando preghi nello spirito inizia a cadere questo dopo dieci minuti che preghi nello spirito una pace sovranaturale inizia a riempire dopo venti minuti mezz'ora una gioia sovranaturale e la Bibbia dice che non la nostra gioia ma la gioia del Signore è la nostra forza amè pregare nello spirito lodare il Dio nello spirito ricorda non le lodi a Dio ma le lodi di Dio quelle sillabe quelle lodi che lo spirito santo mette sulla tua bocca quando preghi in lingua appena cominciarono i canti di gioia e di lode il Signore tese un'imboscata contro i figli di amo non loro amè amè wow puoi immaginare questo qualcosa accade nel mondo spirituale quando inizi a lodare Dio nello spirito c'è un'atmosfera che cambia ti è mai capitato di entrare in assemblee dove senti una grande esuberanza nello spirito e entrare in assemblee dove senti una grande tesantezza nello spirito Dio è lo stesso ma più fervente il clima spirituale più libero sarà lo spirito santo di muoversi quando loro iniziarono a lodare Dio fu lui che tese un'imboscata contro i loro nemici senza che loro toccassero le armi quanto è importante prenderci tempi per godare Dio dopo faremo questa esperienza insieme amè amè l'ho ricordo un'altra volta così amè l'ho ricordo giuda giuda vuol dire lode fai che quando il nemico viene contro di te si scontri con la tua lode amè impara ad avere la lode come stile di vita amè avere la lode nel cuore tiene il tuo cuore pieno di gioia la lode è uno strumento perché il tuo cuore rimanga nella gioia sai cosa dice Paolo ai tessalonicesi nella prima lettera avete accolto la parola di Dio con la gioia che dà lo spirito quando il tuo cuore è nella gioia il tuo cuore riesce a essere permeabile alla parola di Dio invece uno spirito oppresso è impermeabile alla parola di Dio ecco perché Satana vuole che noi siamo nella tristezza quando sei nella tristezza vuoi essere il più grande predicatore che ti predica c'è una barriera ma quando sei nella gioia la gioia ti rende penetrabile la parola di Dio amè fai sì che i nemici che vengano di te contro di te vengano contro Giuda cioè contro la lode i figli di Ammon e di Moab assalirono gli abitanti del monte 6 iniziarono a scontrarsi con gli altri non più con Giuda puoi immaginare che tutto quello che il diavolo ha mandato contro di te comincia a collassare su di te e a distruggersi a vicenda e a fare il lavoro che tu credevi dovevi fare tu ci sono situazioni in cui la cosa migliore da fare è non fare niente ecco perché nella lettera di Giacomo al capitolo 4 è scritto state fermi sottomentetevi a Dio il diavolo finirà da voi resistete al diavolo dalle 50 metri no resistete nel verbo greco isteri vuol dire state fermi a volte quanto sei in macchina la pensate in macchina so che è piovuto abbastanza qui al nord e entri sotto un temporale dove non vedi niente l'unica cosa che devi fare è fermare la macchina e aspettare che passi a volte quando tempeste invadono la nostra vita la cosa peggiore da fare è accelerare fermati fissa gli occhi su di lui amè sapete quando Dio dette a Noè istruzioni per costruire l'arca vi ricordate a un certo punto è scritto farai una finestrella in alto e io ho sempre immaginato questa finestrella come un abbaino dove poi un giorno Noè sarebbe affacciato un po' con la idea per vedere fin quando non l'ho visto nel testo ebraico originale sapete com'è nel testo ebraico originale non è farai una finestrella in alto ma è farai una finestra personal e sai perché? perché Dio non voleva che quelle otto persone vedessero il giudizio intorno ma vedessero la grazia quello che Dio non vuole è che riguardi le circostanze se riguardi le circostanze le circostanze avranno autorità per buttarti giù ma se tu lodi la grazia la grazia potrà pensarti nella gioia e sollevarti per tutto il tempo del diluvio questa finestra faceva vedere il suono in alto perché loro non hanno mai visto il giudizio Dio non ci chiama a predicare il giudizio ci chiama a predicare una finestra personal predica la grazia alle persone perché? perché lui vuole che tu vedi a Gesù non legge questa quando un salmo dice guarderanno a lui e si saranno raggianti i loro occhi non saranno confusi amè? e come tu sei dentro così è l'atmosfera che si spande in un po' in un po' ti è mai capitato che in un momento in cui sei oppresso vai a parlare con alcune persone che sono persone che hanno spirito leggero e gioioso e dopo poche parole già ti senti liberato ricorda questo dovunque tu vai tu porti un'atmosfera spirituale amè? e questa è qualcosa di cui poco noi credenti siamo consapevoli noi non siamo soltanto portatori di Cristo e portatori della parola noi portiamo un'atmosfera spirituale vi ricordate quando Gesù supera la tempesta sul lago e scende sul territorio dei gadareni il Vangelo dice che come lui fu smontato dalla barca un uomo gli venne incontro posseduto dalle giorni vi ricordate cosa? pensa così l'atmosfera spirituale che si supportava Cristo era talmente potente che quando il suo piede tocco le coste del territorio di Gadara tutte le potenze demonie che lo sentirono e andarono subito a giocarsi sui piedi quando entri in un posto ascolta è con lo spirito con cui tu tocchi quel terreno che qualcosa accade non entrare mai in situazioni dove Dio ti chiama a servire con spirito di paura o con spirito di oppressione entra sempre con lo spirito di gioia perché solo la tua presenza inizierà a liberare è un'atmosfera spirituale che tu porti con te sei un portatore sano di un'atmosfera celeste è una buona notizia entra la domenica mattina in chiesa e quando metti piede devi dire signore oggi io porto uno spirito di gioia oggi io porto uno spirito di lode oggi porto uno spirito di esultanza oggi porto uno spirito profetico ed entro con un'attitudine interiore è il mondo spirituale che si crea intorno a te è molto importante questo assalirono gli abitanti del monte 6 per votarli allo sterminio e distruggervi e quando ebbero ambientato quelli del monte 6 cioè due contro uno si dietero a distruggersi al vicino wow e Israele con la due giuda la lode non ha toccato non ha solo a volte il Signore ti dice questa partita non è tua è mia e se è mia tu devi fare il Dio inizia a scegliere e gli sali gli occhi su di lui non esiste un'altra soluzione la soluzione non è prega la soluzione è cerchi predisponiti a cercare meglio nel libro del proverbio è scritto chi cerca Dio comprende ogni cosa amè in questo chiudiamo il terrore di Dio si impadronì di tutti i regni degli altri paesi quando inizi a pregare in lingue quando inizi a far sì che quelle sorcenti svolchino da te c'è un terrore che si impadronisce del mondo spirituale non solo di quei tre ma di tutti gli altri regni e guarda cosa accade quando diranno che il Signore aveva combattuto contro le amici di Israele a volte il mondo non ha bisogno di vedere che se hai fatto giustizia io l'ho fatto giustizia la Bibbia dice non fate le vostre vendette non dice non difendetevi questo spesso i credenti non lo chiedono noi ci lasciamo insultare calpestare diffamare la Bibbia non dice questo la Bibbia non dice non difendetevi la Bibbia dice non vendicatevi ma lasciate fare a Dio perché quando lui fa giustizia nella tua vita e lui ti innalza tutti possono vedere che sei sotto il favore il regno di Giosafat ebbe ebbe il frutto della lode è vittoria inizia a diventare un lodatore di Dio amè non chiederti che cosa devo fare fare chiederti che cosa devi vedere non le circostanze ma vedere Gesù il suo Dio gli diede pace lungo tutti i confini quando è Dio a stabilire la tua pace perché tu ti sei preso cura di lui lui stabilisce un muro spirituale intorno ai tuoi confini ci sono delle battaglie a volte che vinciamo e dopo poco tempo ne iniziano altre però no perché spesso siamo noi che risolviamo le situazioni ma quando tu ti prendi cura della sua gloria inizia a diventare davvero un lodatore di Dio è lui che non solo porta pace ma lui crea una sicurezza e un muro spirituale per conservare la pace amèn facciamo un applauso a lui grazie a tutti stasera vogliamo fare questa esperienza non soltanto ricevere che permetteremo lo Spirito Santo di muoversi di guarire di liberare amèn la cosa più importante è che i nostri incontri siano delle palestre dove possiamo fare delle esperienze e avere delle clave che possiamo usare nella nostra vita altrimenti anziché regnare saremo sempre dipendenti da qualcuno che intercede per noi ma questo può andare bene per un tempo amèn avviene il tempo della maturità in cui Dio vuole che noi iniziamo in Gesù ad usare le chiave che Dio ci dà e la chiave che questa sera lo dimette nel tuo cuore nelle tue mani nelle tue mani nelle tue mani amèn chiudetemi gli occhi è chiudere gli occhi alle circostanze ed aprire le quattro assolzioni qualunque sia la situazione che tu stai passando qualunque che sia una malattia che sia una difficoltà economica la situazione più impossibile pensa che questo era un popolo con un prego non importa se il nemico è umanamente più forte non importa se è una malattia che i medici hanno dichiarato infurabile importa quanta autorità tu dai a Dio sulla tua vita perché lui può fare molto più di quanto tu umanamente puoi pensare domandare o sperare e Paolo continua a dire secondo la potenza che già opera in voi e non in chi prega per voi vi prego alza le mani e prendi questo Paolo sta parlando di una potenza che opera in te non negli altri più spirituali di te in te il suo spirito vive in te il suo spirito prega in te i suoi doni sono in te la sua missione è su di te l'autorità di Cristo è in te ti prego smetti di credere nell'autorità degli altri e inizi a credere alla potenza che opera in te stasera sei tu qui e io ti prego di al Signore Signore voglio imparare a regnare signore voglio regnare nella vita voglio che la mia vita smetta di dipendere dalle circostanze e voglio che impari a dipendere da te sulle circostanze perché le circostanze operino per me qualunque esse signore chiudi i tuoi occhi alza le tue mani e fissa i tuoi occhi su Gesù fai tu alla preghiera di Giosa signore io non so cosa fare ma i miei occhi sono su di te e io voglio tenere i miei occhi su di te come Pietro in mezzo a una tempesta camminò tenendo gli occhi su Gesù ma quando gli abbassò l'acqua iniziò ad affondare fissa i tuoi occhi su di lui stasera lui crea la fede Dio non ti sta chiedendo di fondarti sulla tua fede Dio ti sta chiedendo il permesso di comunicarti la sua fede una fede che quando ti afferra un dono spirituale di fede che quando ti afferra è semplicemente impossibile non credere ti sto parlando profeticamente adesso qui ci sono persone che questa sera sperimenteranno uno dei nove doni dello spirito descritti da Paolo in una colinzi 12 che si chiama dono di fede non è la tua fede è la tua è la sua fede quando la sua fede ti afferra inizi a proclamare cose in cui hai difficoltà a riconoscerti inizi a fare preghiere che non avresti mai pensato inizi a rilasciare dichiarazioni che non avresti mai pensato inizi a fare azioni che non avresti mai pensato impari a dare come non avresti mai pensato e sento l'unzione mentre ti parlo così e vi chiedo adesso nel nome di Gesù di cominciare tutti insieme dolcemente a pregare con le rodiche di Dio nello spirito prendiamoci un po' di tempo inizia a far uscire questa preghiera nello spirito puoi riavare scelte di Dio fissa gli occhi su di lui e cominci a far uscire metti i cantori questa sera davanti al tuo esergete scegli di indossare i paramenti satri scegli di mettere le lodi di Dio davanti alle tue forze cerca di mettere le lodi di Dio davanti ai tuoi sforzi metti la grazia di Dio davanti al tuo fare mentre preghi in lingua questi fiumi che forse sono stati chiusi per tanto tempo cominciano di nuovo a gettare acqua di fede acqua di gioia acqua di potenza non stare fuori da questa esperienza questa sera non importa se ti hanno insegnato che si può pregare o no il libro non conta ciò che il uomo dice non conta ciò che lo spirito dice signore 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 dichiariamo che mentre stiamo pregando nello spirito potenze spirituali vengono legate per quanto ci è ti prego ti prego prendi audacia stasera perché lo spirito si sta muovendo qui alza le tue mani questa sera e inizi a rilasciare questa loda in limpe verso il trono della grazie signore signore sappiamo che nel mondo spirituale un terremoto un terremoto sta venendo il terrore di Dio si sta invadirendo dei nostri carici prendi autorità prendi forza in questa preghiera non lasciare uno spirito di intimidazione di me che chiuda la tua bocca credi che il diavolo è sconfitto credi che Cristo ha autorità in te su ogni potenza dell'inferno su ogni potenza di incredulità su ogni potenza di malattia su ogni legale dell'inferno chi vi avrà la scelta e te ne vanno a sé o lasciate passate le ricorso o la mamma canale fanno crescere questo fiume fanno crescere questo fiume chi vi asserde le ricorso ti avrà la scelta e le ricorso o la mamma canale lascio che non è quello che si o le belle 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 ecco la sì signora noi ti chiediamo in questo luogo rilasciato uno spirito di liberazione uno spirito di minacoli uno spirito di opere potenti doni spirituali rilasciati in questo luogo nel prezioso nome di Gesù noi ti chiediamo in questo luogo occhi aprirsi sul mondo spirituale e non solo su quello fisico ti avrà la scelta che non è quello che si o la mamma canale lascia che questo fiume di moda sbordi la mamma canale 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 o la mamma canale canali che cosa sia la mamma canale canale malattie e guarite con il nome di Gesù potenze e demonie che spezzate sulle vite, sulle famiglie sui fuori di radore diretti di potenze e demonie che in maldizioni generazionali spezzate in questa sera nel potere e la gloria con il nome di Gesù gloria paracalascente sull'iamarissima con il nome di Gesù oh scendere la mia del cuore di Gesù rosa gloria paracalascente gloria paracalascente gloria paracalascente gloria paracalascente gloria paracalascente gloria paracalascente adesso prendi la situazione che tu stai vivendo chiudi gli occhi alza le mani e portala davanti al trono della grazia e dichiara con me signore questa battaglia non sarò io a combattere ripetito ancora una volta questa battaglia non sarò io a combattere ancora una volta questa battaglia non sarò io a combattere questa è la tua battaglia perché tu sei mio padre perché tu sei mio padre perché tu sei mio padre perché tu hai detto i tuoi nemici saranno i miei nemici saranno i miei nemici in questo momento io ti invito a ruotarlo per quella situazione inizia a ruotare il suo nome che signorio non lo ho il tuo nome e ti benedico tu sei il suo tu sei il mio padre dichiara Gesù ciò di cui tu hai bisogno se hai bisogno di liberazione vieni tu sei la mia liberazione se hai bisogno di una provvigione vieni tu sei la mia provvigione tu sei se c'è un legame che ti sta legando dichiara tu sei la mia santificazione tu sei questo la lode è tu sei tu sei tu sei alza le mani inizia ad alzare la tua voce e allodarlo come non l'hai mai fatto non importa se sembra una cosa stupida per quei tre popoli Israele sembrava fare una cosa stupida ma le cose deboli di Dio sono più forti del mondo le armi deboli di Dio hanno il potere da Dio di distruggere le fortezze dichiara Signore io ti lodo in questa difficoltà economica io ti lodo in questa mancanza di lavoro io ti lodo in questo disastro familiare io ti lodo in situazioni di conflitto io ti lodo in questa oppressione io scelto di lodarti perché quando io lodo te sei tu che combatti le mie parole amm 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 su cui lui sta regnando la lode che tu stai alzando ricordati quando Mosè alzava le mani Israele vinceva ma quando le abbassava vinceva Amale e Sofonia dice popolo mio non lasciarti cadere le braccia tieni le tue braccia alzate in lode stasera perché il mio Dio è in mezzo a te un potente che salva è un potente che libera è un potente che guarisce è un potente che risana è un potente che provvede popolo di Dio torna ad alzare le braccia e la tua lode torna a far diventare la lode il trono di Dio perché scritto salvo 22 verso me lui siede sulle lodi del suo popolo e le ringraziamo le nostre mani noi ti chiediamo in questo momento dominio nel nome di Gesù Signore e Mattia su ogni infernità su ogni legame occulto su ogni spirito di sterilità su ogni legame di povertà e impedimento e dichiariamo rilasciato in questo luogo l'unzione dello spirito santo con la mano a sedere 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 mentre per ricordate quando lo spirito prima ha avuto la visione è una persona che il Signore sta toccando nell'intestino nell'apparato di gerente con la mano a sedere negli apparati interni nell'intestino terro nello stomaco Signore vogliamo in questo momento nel nome di Gesù creare il tuo giorno il prezioso nome di Gesù che è lì per te questo è il tuo momento se Dio ti sta affacando se hai questo problema vieni qui davanti e ti voglio invitare mentre vieni qui mentre vieni qui e il Signore ti ringrazio perché io ti estimulerò la mia guarigione io non vengo a ricevere una preghiera io vengo a ricevere ciò per cui Cristo ha pagato due mila anni fa amén amén alzate le vostre mani su di loro ritasciate voi i loro tesorali si sanà la testa del tuo tempo si sanà si sanà la testa del tuo tempo si sanà la testa del tuo tempo si sanà io i loro i loro si sanà i loro le loro le loro Grazie a tutti. 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 a tutti.